Incontri dove la gente viaggia e va a telefonare con dopo barba che sa di pioggia e la ventiquattro ore perduti nel giornale della sera nel va e vieni di una cameriera ma perché ogni giorno viene sera a volte un uomo è da solo perché ha in testa strani tarli perché ha paura del sesso per la smania di successo per scrivere il romanzo che ha di dentro perché la vita l'ha già messo al mondo perché in un mondo falso è un uomo vero Dio delle città e dell'immensità se è vero che Cisella ha viaggiato più di noi vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei vediamo se si può farci amare come siamo senza violentarci più con nevrosi e gelosie perché questa vita stende e chi è steso torna muore oppure fa l'amore ci sono uomini soli per la sete d'avventura perché han studiato da prete o per vent'anni di galera per madri che non li hanno mai svezzati per donne che li hanno rivoltati e persi o solo perché sono dei diversi Dio delle città e dell'immensità se è vero che Cisella ha viaggiato più di noi vediamo se si può imparare queste donne e magari un po' cambiarle e cambiarle un po' per noi ma Dio delle città e dell'immensità se è vero che Cisella ha viaggiato più di noi e problemi non ne hai ma quaggiù non siamo un cielo e se un uomo perde il filo è soltanto un uomo solo che città e dell'immensità Grazie.